E così ho potuto fare questa avventura con nonno e papà, se lungo sono tre anni, tre anni adesso, e mi hai proposto di fare la presentazione all'inizio, e è vero che è un portret, è un portret del nonno cinematografico, e come il nonno dipinge ma non parla, allora tutti hanno le spiegazioni, mi dici sempre di sì, perché quello che abbiamo detto è...